Siamo all'interno di questa bellissima macchina che è una BMW Serie 5, purtroppo dall'estero non possiamo farvela vedere perché piove a dirotto e ci hanno appunto spiegato questa nuova tecnologia, ovvero la possibilità di avere il proprio piano dati, quindi un'altra sim che è poi ovviamente quella del vostro smartphone all'interno dell'automobile senza dover necessariamente portare lo smartphone con sé, quindi sarebbe in sostanza la possibilità di utilizzare in maniera completa il vostro telefono all'interno dell'automobile, ad esempio si può innanzitutto impostare più profili, quindi qui ci fanno vedere che c'è John che ha sia impostato il profilo privato, ad esempio il numero del lavoro, si può ovviamente scegliere con i comandi facilmente e facciamo appunto l'esempio di una chiamata, chiamando sul numero, attendiamo, ok, sta direttamente chiamando nell'abitacolo, quindi basterà o accettare o rigettare una chiamata, allo stesso modo con la chiamata si potranno ricevere i messaggi e in futuro la cosa interessante è che potremo anche usufruire attraverso appunto il proprio piano dati di servizi in streaming come ad esempio Netflix, man mano che verranno poi sviluppate le applicazioni Spotify o che ne so anche social network, in futuro quindi non sarà appunto necessario portare lo smartphone con sé o meglio distrarsi alla guida e quindi poter utilizzare e usufruire, quindi anche di uno schermo più grande o magari anche di un suono qualitativamente migliore direttamente appunto dall'abitacolo. Quindi si tratta in sostanza di eSIM che funzionano in maniera indipendente dallo smartphone, quindi potrete utilizzare entrambi senza alcun problema e inoltre grazie appunto alle antenne la qualità della chiamata è decisamente ottima, quindi non c'è nessun problema sia qualitativo che è appunto di connessione. Questo attualmente è un prototipo però ci hanno comunicato che durante il prossimo anno questa tecnologia arriverà in maniera ufficiale.